Sabato 9 settembre, Centro Pravesi di Milano, sesta edizione del workshop per l'allenatore di pallavolo, Davide Mazzanti, commissario tecnico della Nazionale di pallavolo femminile, Pefetto Giorgi, commissario tecnico della Nazionale Polacca di pallavolo maschile e ci sarà una grande novità, coach Dan Peterson che farà un intervento particolarmente atteso di taglio motivazionale. Come tu sai Lorenzo faccio diverso discorso per la preversione di pallavolo, non sul pallavolo ovviamente ma sul coaching, gestione, approccio mentale, altre cose. Ogni anno uno a Cavalese lì in Trentino e recentemente a Bari per la parte del sud per allenatori del terzo livello, del livello top, su coaching più che altro. Come fare la professione di allenatore, la carriera, come gestirsi, le cose che uno deve fare, affrontare la stampa, la società, gli arbitri, diverse lezioni, pilule come sai benissimo. E farò una cosa un po' più succinto, un po' più breve lì a Centro Pravesi, il 9-10 settembre per questo allenatore. Sono abituato a farlo, mi fa sempre il piacere da farlo, sono veramente bravi e quindi è un grande gioia lo faccio. Allora, segnatevi un'agenda, tutti voi che amate la pallavolo e che siete allenatori, perché quest'anno c'è anche il coach, e questo vuol dire una bella chicca, oltre a Mazzanti e a 10 giorni. Vi aspettiamo sabato 9 settembre, Centro Pravesi di Milano.